Buongiorno, sono il professor Fabio D'Angelo, sono il presidente del corso di laurea in scienze motore dell'Università dell'Insubria. Se ami lo sport e non lo vedi soltanto come un'attività di gioco, ma pensi all'attività motoria nell'ottica anche di una medicina preventiva, scienze motorie è il corso di studi che fa per te. Imparerai ad insegnare l'attività motoria riuscendo ad integrare tutte le conoscenze mediche, biomeccaniche e biologiche che ti verranno insegnate in maniera integrata e multidisciplinare. L'obiettivo del corso di studio è quindi quello di formare un professionista dell'attività motoria che sarà in grado di gestire, valutare e fornire dei programmi di allenamento sia a gruppi che a individui singoli. Un'altra peculiarità del laureato in scienze motorie è quello di intervenire nell'ambito di una medicina preventiva. L'aumento dell'età media porta all'aumento dell'incidenza di patologie come l'ipertensione, l'obesità o il diabete senile e proprio l'attività motoria che il laureato potrà prescrivere sarà d'aiuto a questa popolazione. La presenza poi di un college sportivo riconosciuto da alcune federazioni nazionali fa sì che il corso di laurea in scienze motorie sia particolarmente attrattivo per atleti di livello nazionale che sono iscritti a queste federazioni. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani. Ciao sono Linda e frequento il secondo anno di scienze motorie all'università dell'Insubria. Ho scelto questa facoltà perché lo sport è sempre stata una parte fondamentale della mia vita sin da quando ero piccola. Durante gli ultimi due anni di corso ci viene data l'opportunità di svolgere dei periodi di tirocinio in cui abbiamo l'opportunità di confrontarci direttamente con il mondo del lavoro che poi ci aspetterà una volta finita l'università. Ciao sono Mattia, sono un ex studente del corso di laurea in scienze motorie. Sono qui per raccontarvi quanto il corso di laurea in scienze motorie vi permetterà di fare una volta al di fuori. Uno dei punti a favore è sicuramente trovare un lavoro molto facilmente in strutture dove verrà praticato sia l'attività amatoriale che quella agonistica ad alto livello. Inoltre avrete la possibilità di iscrivervi a un corso di laurea magistrale che vi permetterà di avere ulteriori sbocchi di lavoro come ad esempio l'inserimento nel mondo scolastico. Scegli oggi il tuo domani!